Da un lato il rischio ambientale, dall'altro lo spettro dei licenziamenti. Su questo delicatissimo piano si è dovuto muovere il Consiglio Comunale di Termoli, che è stato chiamato a decidere sulla richiesta della chimica Momentiv di ampliare il proprio stabilimento per produrre una nuova sostanza chiamata silano, organo funzionale, e impiegata nella mescola degli pneumatici per migliorarne le prestazioni. Un aumento di produzione che porterebbe all'assunzione di 25 nuovi operai. Nel caso però in cui all'azienda non verrà consentito l'ampliamento, potrebbe anche decidere di delocalizzare la produzione e licenziare il personale. Su questa partita dunque l'assisi ha dovuto decidere, con il risvolto della medaglia rappresentato dal rischio ambientale e dalla possibile ulteriore compromissione di una zona, quella del nucleo, già classificata come degradata. La fabbrica, stando al progetto, dovrà modificare l'inceneritore e realizzare un'area di stoccaggio di rifiuti che non possono essere bruciati. La seduta è stata molto accesa e ha previsto, oltre agli interventi di alcune associazioni in difesa del territorio, quello dello stesso direttore di stabilimento, Carmelo Nigro, che ha illustrato il progetto ammettendo sì di essere un'azienda a rischio di incidente rilevante, ma è pur vero, ha detto, che non abbiamo avuto casi di malattie professionali e che in 32 anni di permanenza a Termoli non ci sono stati incidenti nello stabilimento, proprio per l'attenzione e gli investimenti che il gruppo fa ogni anno in sicurezza. Ma perplessità sono state espresse sia dai consiglieri che dal tecnico Carmela Sica, nominato dall'Aggiunta per valutare il progetto, e che ha fatto notare come in realtà l'inceneritore attuale già lavora in deroga da tempo e che forse sarebbe il caso di realizzarne uno nuovo, anche per abbattere ulteriormente le emissioni. Tanti sono stati gli interventi in aula tra i contrari e i favorevoli, in ultimo quello del sindaco Antonio Di Brino, che ha espresso la sua opposizione ad un'ulteriore compromissione ambientale del territorio. Alla fine il Consiglio ha deciso di non dare l'autorizzazione, approvando la mozione che era stata presentata dalla minoranza. 17 voti favorevoli, tra cui anche quello del sindaco e di 5 consiglieri di maggioranza. I restanti 8 componenti del centrodestra non hanno partecipato al voto. Maggioranza dunque spaccata sull'ampliamento della Momentiv, su cui l'ultima parola ora spetta la Regione, che dovrà tener conto del parere negativo del Comune e di quello dell'ARPA che sta ultimando lo studio.